Lo vogliamo disturbare solo un attimo Francesco, ancora un altro intervento per pulire Como? Ma se i giorni di Natale si ispirano questi maledetti, efficienti, posso usare questi termini? Certo, vorrei dirne qualcuno più pesante, un limito per i media. Ecco, però l'offensiva di Como Pulita non si ferma a Francesco. No, perché come dicevo l'altro giorno, qui l'avranno fatto due sere fa, come avevamo fatto quello dello stadio, se nel giro di 24-36 ore gli tiri via, di qui si scoraggiano. Dici? Sei convinto? Eh beh, stiamo vincendo nelle battaglie, abbiamo diversi esempi, il sottopasso di portatore piuttosto che la scuola su in cima di Amentano. Ecco, quindi praticamente è già quasi coperta la scritta che c'era. Non è che ci vuole molto. Perfetto.